Siamo qui a Klimhaus a presentare un prodotto nuovo che è il pendenzato, un prodotto che consente di ricreare in fase di opera le pendenze già calcolate preventivamente in fase di progettazione, un prodotto che consente di avere un arbitro sartoriale da mettere in poso in poco tempo con delle prestazioni termiche decisamente elevate. Grazie